Ben trovati a tutti, mi chiamo Filippo Maria Battaglia, sono un giornalista che si occupa di libri, mi chiamo Filippo Maria Battaglia, sono un giornalista che si occupa di libri, sono qui come avrete intuito per parlare di questo libro Amore e violenza di Lea Melandri pubblicato da Bolati Boringhieri, ringrazio Lea Melandri di essere arrivata nonostante tutto e ringrazio ovviamente il circolo dell'ospitalità così calorosa che ogni volta ci dà, Lea Melandri non ha bisogno di presentazioni, la conoscete probabilmente da più tempo come elettrici e come persone di me, è la Presidente della Libera Università delle Donne di Milano, è una saggista ma è soprattutto una delle studiosi più importanti e più autorevoli del femminismo che abbiamo in Italia. Ora di solito Lea Melandri, il giornalista bravo non deve partire mai né dal titolo né dalla copertina del libro, però io in questo caso voglio fare un'eccezione e spiego anche il perché. Allora la copertina è questa, il titolo è Amore e violenza e la copertina appunto ha due colori, uno rosso chiaro e uno rosso scuro e mai come in questo caso secondo me la scelta che ha fatto Bolati Boringhieri insieme a lei è perfetta per sintetizzare questo libro. Allora diciamo così che da un po' di tempo a questa parte, da qualche decennio a questa parte c'è stata una vulgata in Italia che ogni qualvolta ha sentito parlare di femminicidio, ha utilizzato l'espressione delitto passionale, raptus di gelosia, cose inaccettabili e per le quali molti di noi si sono sentiti legittimamente di reagire e di dire l'amore qui non c'entra niente, non parliamo di amore. E però Lea Melandri in questo libro testualmente dice è vero che non si uccide per amore, ma l'amore c'entra dal momento che a uccidere sono mariti, fidanzati, amanti, uomini che hanno intrattenuto con la vittima una relazione intima. Allora io vorrei partire esattamente per parlare di questo libro da questa frase, cioè l'amore c'entra. Perché l'amore c'entra? E perché è giusto parlare, affrontare anche il tema amoroso dell'amore quando si parla di femminicidio? Intanto grazie dell'invito e grazie per la presentazione. Partendo dalla copertina, come vedete io ho fatto di tutto per farmi fare una giacchetta del colore della copertina. Perché mi piace, e Michele Lussato sa che abbiamo discusso, volevo proprio quel colore e anche quell'accostamento. Che dice appunto un po' di questo legame, è più di un legame, è un'intreccia, una confusione tra, appunto, che noi non vorremmo vedere, che è inquieta ovviamente. E dicevo un legame perverso, appunto, tra amore e violenza, tra amore e odio. Cioè l'ambivalenza, l'ambiguità più che l'ambiguità, l'ambiguità che c'è nelle relazioni tra uomini e donne, che c'è perché? Perché stiamo parlando, quando parliamo di dominio maschile o parliamo di sessismo, cultura patriarcale, stiamo parlando di un dominio particolarissimo, diverso da tutti gli altri. Perché? Perché attraversa le vicende più intime, le esperienze più intime. La sessualità, la maternità, gli affetti, le relazioni familiari. Non lo diciamo mai, ma gli uomini sono i figli delle donne. Com'è che quel tenero figlio, come ho scritto una volta un po' duramente, poi può diventare un feroce assassino? Dobbiamo chiedercelo questo. Quindi, dicevo, un dominio particolarissimo che ha visto innestarsi delle sentimenti contrapposti. E la ragione, io come dire, sempre ho cercato da tanti anni, nel mio lungo percorso di femminismo, di capire le ragioni, ripeto, di una, quella che io chiamo una guerra, che è stata una guerra non dichiarata, ma la prima guerra possiamo dire che è quella che ha visto un sesso arrogarsi, no? Il governo del mondo relegando l'altro sesso, appunto, in una sorta di natura inferiore. Sappiamo, tutta la nostra cultura alta, non è solo il senso comune, no? Che porta avanti da millenni questo pregiudizio. È la cultura alta, quella che insegniamo nelle scuole, nelle università, quella cultura che pure abbiamo amato. Io ho amato Platone, Aristotele, la filosofia, la poesia, eccetera, dei classici, ma in quel patrimonio di cultura c'è inscritto l'idea, appunto, di un rapporto tra i sessi che ha visto la donna considerata, identificata col corpo, con la sessualità, con la maternità, corpo erotico e corpo materno e soprattutto ridotta a genere. Si è detto, oggi si parla tanto di questioni di genere, giustamente parlando di maschile e femminile, ma non si dice mai che genere è stato per millenni soltanto il genere femminile. Era la donna, la donna con la maiuscola, era l'identificazione della donna con dei ruoli, delle funzioni, mogli di, madri di. La grande rivoluzione del femminismo degli anni 70, almeno per il femminismo che io ho conosciuto allora e che ha cambiato profondamente la mia vita, è il fatto di rendersi conto che le donne non sono mai state degli individui, non sono mai state delle persone, sono state delle funzioni. Anche nei testi di pedagogia che usavamo ancora negli anni 50, anche i migliori, quando tracciavano il percorso di formazione dell'individuo, il maschio era l'unico che arrivava al suo impegno civile, politico, eccetera. Le donne restavano, si fermavano prima, era sufficiente che fossero, che fossero appunto un corpo erotico, che potessero piacere, era sufficiente che fossero delle buone mogli. Ecco, allora tornando, quando è che comincia questo innesto? A mio avviso comincia all'origine. Ecco, io da sempre nel femminismo ho cercato di capire che cosa è successo all'origine fra questi due sensi. Perché mai un figlio, l'uomo figlio, si accanisce, ha finito per sottomettere, sfruttare, violare quel corpo che lo ha messo al mondo. Finisco solo per il ragionamento su questo. Perché l'uomo incontra il corpo femminile, il corpo diverso dal suo, in un momento della vita in cui è appunto quando è bambino, è nato da quel corpo, conosce quel corpo quando è in una posizione di estrema dipendenza, come lo è un bambino, inerme. Quindi l'ha visto come un corpo potente. E all'origine poi, a lungo per gli uomini non sapevano, qualche parte avesse nel processo generativo il seme maschile. Quando l'hanno scoperto hanno pensato che facevano tutto loro e che le donne erano solo un contenitore. Quindi genealogia di padre e figlio. Lo sappiamo com'è andata la storia. Ma per dire com'è che... Allora, questa vicenda d'origine, nel momento del, dicevo, del sesso maschile, il bambino che conosce quel corpo come corpo potente, e poi nella vita amorosa adulta si capovolge questo rapporto. Ma non va dimenticato questo capovolgimento. Perché? Perché dietro quella figura, cioè come dice Bakhofer nel suo libro Il matriarcato, è l'uomo che nel coito, nell'accoppiamento, rientra in quel corpo e ne esce vittorioso, dicono i psicanalisti, vittorioso sul trauma della nascita. Ma nel capovolgimento, quindi, quella che si va a instaurare come soggetto principale, dominatore, non è solo l'uomo, resta ancora in parte il figlio, nel momento in cui gli uomini hanno confinato quel corpo femminile nel ruolo di madre. Quindi vuol dire che c'è un prolungamento, anche nella vita amorosa adulta, della relazione d'origine. E la ragione per cui tante donne, anche con età molto inferiore a quelle dei loro uomini, compagni e macchie, diventano delle madri. Cioè, in sostanza, nel capovolgimento, l'uomo va a occupare il posto che era prima della madre, dice Bakhofer. E quindi è una figura, sì, di padre padrone, l'uomo che è violento, che sottomette, ma ha sottomesso, in qualche modo, la risorsa principale della sua infanzia. Cioè, quello che l'uomo ha sottomesso sono le doti materne, le cure di una madre. E nel ruolo di madre l'ha confinata. Quindi è questo prolungamento, ripeto, dell'esperienza che il bambino fa da piccolo, che si prolunga nella vita amorosa adulta. E si creano nell'amore dei vincoli, di indispensabilità non necessari. Dico sempre, la maternità delle donne è stesissima. Perché? Perché curano bambini, anziani, malati e uomini in perfetta salute. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non torna. Su questo aspetto, perché questo tema è molto affrontato, molto ben messo a fuoco in questo libro. E questo libro è interessante anche per un altro aspetto, perché affronta una rimozione, che è proprio questa, cioè quella della famiglia, che il femminismo ha per molto tempo, il femminismo, diciamo, storico, ha per molto tempo ignorato, almeno fino a 20-30 anni fa, ci siamo concentrati sulla sessualità, ci siamo concentrati sul corpo, ci siamo concentrati sulla maternità, e però ci siamo dimenticati della famiglia, che è un aspetto invece centrale, almeno fino agli ultimi 20-30 anni. Perché questa rimozione e questo ritardo? sono d'accordo sul fatto che alla fine degli anni 70, dopo un decennio in cui al centro delle teorie, delle pratiche del femminismo, c'era essenzialmente la sessualità. Verso la fine degli anni 70 siamo arrivati a mettere a tema la relazione figlia-madre, perché questa frequentazione tra donne, che non erano solo le riunioni, i gruppi di autocoscienza, ma anche le vacanze, quindi non poteva non riattualizzarsi nella relazione tra donne, nella relazione d'origine, e nella relazione d'origine scoprivamo l'omosessualità, scoprivamo che il maschio come la femmina ricevono le prime sollecitazioni sessuali, il primo desiderio nasce in relazione a quel corpo. A quel punto, ma noi eravamo una... ecco, non abbiamo interrogato la maternità dal punto di vista di cosa significa poi la cura di un figlio, la relazione coniugale. L'abbiamo vista dal punto di vista delle figlie, eravamo una generazione di figlie, c'è chi aveva 18, chi già aveva 20-30 anni, ma eravamo una generazione di figlie che si ribellavano alle loro madri, alle madri naturali, ma anche alle madri simboliche. Siamo state cattivissime con le donne delle associazioni femminili, femministe, di fino a 800-900, perché ancora, diciamo, in queste associazioni ancora si riferivano alla maternità, la maternità che usciva dalle case diventava la maternità civile, no? ma è sempre maternità era, mentre per noi il problema era scoprire la donna, l'individuo, al di là dei ruoli che ci hanno assegnato. Quindi alla fine degli anni 70 avremmo dovuto, sì, aprire quelle porte di casa, interrogare la coniugalità, il matrimonio, la famiglia in sostanza. Non l'abbiamo fatto e mi sono interrogata molto su questo. Poi sono, in realtà, noi arriviamo, il femminismo, in Italia arriva a parlare di violenza in ambito domestico, no? Soltanto negli anni 2000. La prima grande manifestazione è stata a Roma nel 2007, erano, allora si chiamavano, ogni ondata generazionale si è data un nome. Queste erano le sommosse, bravissime, hanno portato in manifestazione 150.000 persone e lì gli striscioni dicevano l'assassino alle chiavi di casa. Quindi avevamo aperto quelle porte, ma vent'anni dopo. Allora io mi sono dato una risposta pensando alla mia storia personale, come faccio sempre. Io appunto sono figlia di contadini, poverissima, ormai, lo dico spesso, perché a distanza di tanti anni ho davvero una gratitudine infinita per questi due genitori contadini, poverissimi, eravamo otto, io sono figlia unica, ma eravamo tre nuclei familiari stipati in due stanze, una cascina, contadini mezzadri, quindi la povertà e c'era tanta violenza, c'era la violenza sulle donne. Donne di Romagna, io vengo dalla terra di Romagna, donne vitalissime che lavoravano in campagna, in casa, curavano i loro mariti ed erano delle ballerine di liscio eccezionali, quindi di grande vitalità, donne forti, eppure erano maltrattate, eppure comunque il controllo ancora era quello maschile, non stavano zitte, ecco questo devo dire la verità, parlavano, non si arrendevano mai e questo per me è un'eredità buona. Ora, io avendo vissuto per vent'anni, dormivo in un canto a questo letto, per vent'anni facevo, ho avuto il privilegio, mi hanno fatto studiare, grande privilegio di fare un buon liceo di provincia, ma accanto a quel letto io non ho mai capito per vent'anni dove finiva la sessualità e dove cominciavano le botte, cioè non capivo, non ho mai visto il confine, ripeto, tra amore e violenza, tra sesso e violenza, e negli anni del 70, nell'autocoscienza, neanche lì io ho raccontato, quindi non ho raccontato di quella che era la vicenda che ha segnato di più la mia vita, se sono qui dopo 50 anni a tempo pieno impegnata nel femminismo è sicuramente per il segno che ha lasciato quella vicenda, quei vent'anni, quelle donne così forti, ripeto, e svilite, e picchiate, eccetera, perché non lo, ecco, io non mi è venuto, è vero, non ne ho mai parlato nella pratica dell'autocoscienza, una volta sola, verso la fine degli anni 70, quando si è cominciato a discutere sulla legge, la richiesta di una legge per la violenza sessuale, io ho detto che ero anche quasi, ero contraria alla denuncia d'ufficio, perché ho detto se fosse stata ai miei tempi la mia famiglia sarebbe stata tutta in galera, no? Ora questa frase è stata riportata poi sul manifesto al paese, qualcuno malignamente l'ha raccontata ai miei, quando sono tornata e mio padre mi ha detto ma cosa hai detto che ho picchiato la mamma e mia mamma hai fatto bene, ecco, questa era mia madre, a cui devo tanto di questa forza di ribellione quantomeno, comunque ripeto non ne ho mai parlato, il femminismo non parla mai, non ha mai parlato della violenza manifesta, manifesti sono gli stupers, manifesti è la violenza domestica e loro ancora non c'erano tanti femminicidi come oggi, anche al mio paese qualcuno mi ha chiesto ma c'erano femminicidi? No, li avevano già ammazzate, non avevano bisogno di ucciderle, li avevano già piegate in sostanza, quindi i femminicidi oggi sono legati, lo sappiamo, alla libertà delle donne, non sono più quel corpo a disposizione, gli uomini che hanno trovato naturale la sottomissione delle donne non le trovano più lì dove pensano naturalmente collocate. Allora perché arriviamo, io arrivo solo negli anni 2000 a ragionare, a mettere a tema amore e violenza, perché? Perché cominciano a arrivare i primi rapporti su qual è la prima causa di morte delle donne e veniamo a sapere appunto che è la violenza domestica. Nel 2007 come dicevo arriva questa ondata di giovani femministe grande manifestazione e io poi comincio a pensare ad amore e violenza. Allora mi sono detta che cos'è che ha fatto da velo? Perché si arriva così tardi? Noi abbiamo sempre ragionato negli anni 70 sulla violenza ma era la violenza invisibile come l'ho chiamata già allora. Invisibile è il fatto che le donne hanno interiorizzato io dico proprio incorporato la visione maschile del mondo. Che altro potevano fare se non incunearsi dentro quei ruoli di mogli di madri e strappare da lì un qualche potere io dico anche un qualche piacere. l'attaccamento che ancora le donne hanno alla maternità e dobbiamo avere il coraggio di dircelo in questo le donne sono state il tramite della legge dei padri sono loro che hanno in mano i figli fin da piccoli e quindi hanno un peso è molto grande diciamo l'influenza la legittimazione che ti viene da una madre. Io faccio laboratori di scrittura di esperienza che è il mio modo di dare prolungamento alla pratica dell'autocoscienza alla pratica dell'inconscio e sempre da quelle di 18 anni come quelle di 80 hanno un rimprovero da fare alle madri alcune con le madri già defunte a 80 anni ancora imprecano contro una madre che non le ha volute che non le ha amate insomma c'è un nodo importante nel rapporto figlia madre perché la madre è entrata forzatamente dentro l'ordine patriarcale è stato il tramite spesso di questo quindi che cos'è che ripeto perché arriviamo così tardi ma è chiaro perché l'amore ha fatto da velo io non ho mai pensato di denunciare che mia madre dovesse denunciare mio padre ho visto fino alla fine si sono voluti bene anche fino alla fine quindi la confusione ripeto la confusione il bisogno d'amore delle donne oppure le donne scontinuano io dico spiare dietro quel padre padrone quell'uomo dominatore spiano un tenero figlio pensano di cambiarlo denunciano poi tornano dobbiamo cercare di capire questo intreccio profondo ripeto io non ho pensato che dovesse denunciare mio padre ho voluto bene anche mio padre certo il femminismo mi ha aperto molti occhi è vero però dobbiamo anche renderci conto di quanto sia complessa questa vicenda che ripeto ha visto innestarsi insieme negli ultimi mesi a proposito di questo c'è stato uno scarto è interessante la prefazione della nuova edizione di questo libro perché lei ricorda come appunto nell'inquietante sequenza di femminicidi che ci sono stati a seguito di separazione quello di Giulia Cecchettin è stato un elemento di svolta abbia avuto in qualche modo uno sviluppo inaspettato e si collega molto a quello che stava dicendo adesso ha avuto uno sviluppo inaspettato grazie alle voci della sorella di Giulia Elena e del padre che per la prima volta diciamo insieme alla voce della sorella di Giulia è stato in grado di mettere in discussione la normalità no? la normalità fatta di pregiudizia tavici quella di cui parlava prima è un elemento importante anche perché è qualificante anche rispetto al libro perché i libri importanti i libri che resistono sono quelli che poi riescono ad avere più letture anche a volte inaspettate rispetto a quello che accade attorno allora vorrei che ci soffermassimo su quel femminicidio e soprattutto su quella voce del padre che è stato in grado in qualche modo di scardinare quel meccanismo di cui parlava poco fa io ho detto a proposito della vicenda drammatica di Giulia e soprattutto delle prese di quello che hanno fatto poi il padre Gino Cecchettin e la sorella che è stata io ho detto è stata una svolta per non dire una rivoluzione ci sono dei momenti nella storia in cui c'è come un salto un salto uno scarto un salto della coscienza storica ecco io penso che quello che ha detto che continua a dire a scrivere il padre di Giulia e la sorella quello che continuano il modo con cui hanno affrontato questa vicenda così drammatica e dolorosa tra l'altro avevano perso la madre la moglie di Gino Cecchettin quindi ancora più da apprezzare il fatto che abbiano trasformato quella che poteva essere una ritorsione di odio ormai io vedo su Facebook io uso molto i social Facebook eccetera e sempre l'idea è mettetele in galera buttatela insomma l'idea è sempre una ritorsione vendetta eccetera ecco allora cos'è avvenuto ora intanto dobbiamo dire che è già stato un grande passo avanti il fatto di che quando ci sono stati delle sequenze quasi quotidiane un giorno sì due no un femminicidio e sempre erano casi di cronaca di cronaca nera ecco questo per me è stato veramente mi ha comportato una pazienza infinita perché insomma sono 50 anni di femminismo che noi parliamo della violenza abbiamo parlato ripeto più della violenza invisibile però sono 50 anni che il femminismo analizza cos'è stato il rapporto tra i sessi ecco e ancora però appunto di fronte a un fatto così grave come il femminicidio questa forma di potere di vita e di morte cioè la violenza maschile nella sua forma più arcaica più selvazza come mai resta un problema del singolo la patologia del singolo oppure ci hanno provato dicendo sono le culture degli strani culture arretrate degli immigrati eccetera eccetera allora dicevo perché è stato una poi grandi manifestazioni diciamo grandi manifestazioni di questa rete straordinaria di una generazione giovane che non una di meno sette anni che hanno fanno che hanno costruiscono un movimento fatto di assemblee di incontri di grandi manifestazioni questo è un movimento il femminismo ha tante realtà ma quello di non una di meno è un movimento no? poi lo chiamano rete dico se è la stessa cosa posso anche dire rete ma insomma comunque questo è un movimento e ripeto però di queste grandi manifestazioni 200.000 persone eccetera comparivano i titoli nei telegiornali qualche piccolo quando andava bene un flash nei titoli di coda quindi vuol dire che c'è davvero in questo paese in particolare secondo me di un maschilismo radicato è davvero difficile far arrivare una consapevolezza che ripeto ha mezzo secolo di cultura di pratiche politiche abbiamo archivi pieni di pensiero delle donne quando mai li vedete l'oggetto di discussione entrare nel dibattito politico bene dicevo perché allora siamo la vicenda di Giulia della famiglia Cecchiettina ha fatto fare un salto alla coscienza storica perché in questo caso le parole tutte le analisi le parole gli slogan persino delle nostre manifestazioni sono uscite da una casa da una famiglia era lì dove è passato per millenni la normalità della violenza sulle donne è uscita da una famiglia cioè è uscita da un interno quindi considerato privato ma di un padre di un genitore di un padre che ha parlato sì del suo dolore di padre ma riferendosi a tutti gli uomini cioè in qualche modo uscendo anche dal ruolo di genitore non è poca cosa nel familismo italico che un padre dica sto parlando a tutti gli uomini questa violenza ci riguarda non riguarda solo me che ho perso una figlia ci riguarda riguarda tutti gli uomini e Elena che scrive questa straordinaria lettera al Corriere dove parla tutte le donne le ragazze come lei le avverte sta succedendo qualcosa no? e in sostanza anche lei esce dal ruolo familiare per parlare quindi si sprivatizza una vicenda cosa che il femminismo lo fa da 50 anni quello di far uscire la relazione uomo-donna dal privato no? e dalla naturalizzazione che ha subito ma che lo faccia ripeto che lo facciano un genitore una sorella cioè che venga fatto dall'interno e andando oltre quei ruoli no? quei ruoli familiari questa è una rivoluzione per me infatti c'è che Tim finisco subito c'è che Tim parla dice è un problema cioè praticamente allarga dalla famiglia alla società e questo è l'aspetto più importante non solo questo ma mi interessa anche il come perché lei scrive che dopo quel femminicidio i giornali avevano iniziato a parlare la sua lingua lei dice è vero allora le voglio chiedere questo è un aspetto abbiamo raccontato della dinamica esce dalle mura familiari per la prima volta ma gli effetti che ha tra gli effetti che ha c'è anche quello di parlare la sua lingua per la prima volta allora io voglio capire qual è stato il salto qualitativo a livello lessicale e di linguaggio proprio e soprattutto le voglio anche chiedere se lei è fiduciosa che questo salto prosegua oppure non dico che diventi maggioritaria ma comunque che riesca a essere persistente nel tempo sì io devo dire che quella settimana dopo dopo quando dopo che ha parlato il padre il funerale e la figlia per una settimana i giornali tutti i giornali compresi dal Corriere della Sera la prima pagina intera parlava la mia lingua io ero ero commossa quasi non riuscivo a credere alle mie parole e a quello che vedevo perché parlavano la nostra lingua di 50 anni di femminismo ma anche in particolare trovavo qualcosa che è molto vicino al mio discorso su amore e violenza questa volta era difficile non vedere che c'era comunque un legame un intreccio perverso fra le due cose questa era era stati avevano avuto una relazione di più intima insomma comunque c'era una vicenda affettiva eccetera e quindi era difficile separare amore ripeto amore e violenza ma ripeto paginoni interi che parlavano con una lingua ripeto era sorprendente per me quanto somigliasse ai miei scritti ai scritti di tante donne su questa vicenda una settimana è durata io devo dire però che ho pensato però la sanno lunga se riescono a scrivere degli articoli così con questo linguaggio addirittura riportando riportando anche gli slogan che aveva usato Elena che era il figlio sì l'assassino non è malato il figlio sano del patriarcato cioè anche i nostri slogan allora dicevo la sanno lunga vuol dire che hanno visto hanno ascoltato hanno sentito forse hanno letto anche qualcosa che noi abbiamo scritto ma com'è che emerge solo in questo perché emerge così all'improvviso in questo caso e perché poi scompare anche rapidamente ecco devo dire che io sono convinta che da quella presa di coscienza da quel salto di coscienza storica non si torna indietro no? quello è un punto è un traguardo come non si è tornato indietro è stato impossibile tornare indietro dall'inizio quando all'inizio degli anni 70 Carla Lonsi dice sono comparse sulla scena politica eccetera soggetti imprevisti e mo ve li tenete ci sono e quindi ci sono e quindi vuol dire che la storia va ricomincia va raccontata in un altro modo quindi quello è stato poi è venuto appunto ripeto dieci anni di femminismo con tutte le intuizioni le prese di coscienza che ho detto no? del capire che noi abbiamo interior che la vittima parla la lingua dell'aggressore non è una anche questa è una rivoluzione una conquista di poco conto no? rendersi sapere che noi purtroppo portiamo avanti no? quella visione del mondo abbiamo fatta nostra forzatamente quella visione del mondo quindi dicevo non si torna indietro questo non vuol dire come abbiamo visto purtroppo che non ci saranno più femminicidi però io noto io sto molto attenta ogni volta che nelle telegiornali no? parlano di un femminicidi come lo dicono se c'è una parolina in più no? se c'è qualcosa un aggettivo qualcosa c'è ecco qualcosa nel senso che non riescono più a liquidare brutalmente no? chiudendo no? quindi nominano vabbè nominano i femminicidi dicono anche che succedono insomma qualche cosa in più pochissimo pochissimo però qualcosa in più c'è ma soprattutto appunto io credo che questo il fatto lo vedo anche dai social tutti gli interventi che va a interviste il libro io ho letto questo libro dedicato a Giulia è un libro straordinario cioè straordinario che un uomo abbia potuto trasformare una vicenda così dolorosa che poteva muoverlo a un odio sconfinato il fatto che si è riuscito a pensare che da lì da questa vicenda drammatica e dolorosa eccetera violentissima poteva nascere un messaggio invece di pace di solidarietà di consapevolezza nuova ecco nei social non passa con facilità neanche questo no però sono devo dire che le voci decritiche quelle più volgari più pesanti non sono tante sono state io ho visto ho seguito anche per televisione le sue interviste eccetera è davvero un uomo tra l'altro è anche il modo la compostezza profonda di chi ha interiorizzato profondamente questa vicenda non c'è niente di esibizionismo e quindi è difficile anche in questo poi criticarlo eccetera quindi è un messaggio importantissimo che circoli questo libro le sue interviste che si continui ad ascoltare una voce così particolare sorprendente come quella di Geno Ciacchettini della figlia eh di Geno Ciacchettini